Il turismo campano sempre più nella morsa del covid dopo un'estate brevissima e un Natale da dimenticare, fatto di divieti, di spostamenti e chiusure, mentre le previsioni per il 2021 preoccupano un settore ormai in ginocchio. Federalberghi Campania parla di una situazione sempre più grave e di un governo incapace di garantire sostegno a imprese e lavoratori. Ci auguriamo che il 2021 sia l'anno finalmente della ripresa, non dipenderà solo da noi naturalmente, dipenderà dalla situazione della pandemia, sulla possibilità di rimettersi in moto e di spostarsi perché non ci può essere turismo senza spostamento delle persone. Quest'anno, proprio della settimana scorsa, uno studio dell'Istat che parlava di oltre il 52% di calo di domanda turistica a livello nazionale, diciamo che in provincia di Salerno siamo abbastanza in linea con questi dati e siccome questi dati si riferiscono ai primi nove mesi c'è da dire che la situazione qui peggiora perché se ricordiamo l'anno scorso in questi periodi c'erano le luci accese e c'era tanto turismo a Salerno e nei comuni limitrofi che beneficiavano dell'iniziativa. Intanto scendono ancora in piazza anche a Salerno gli esponenti dell'Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, Flashmob in piazza Mendola per chiedere maggiore sostegno dal governo che dicono ci ha abbandonati. Noi non stiamo qui a chiedere di voler riaprire per forza perché ci rendiamo conto che un momento è particolare e né ci vogliamo scagliare contro le altre associazioni o con gli altri che stanno lavorando ancora in questo momento, ma chiediamo solamente di poter avere i giusti ristori, i giusti aiuti, i giusti riconoscimenti a una categoria che rappresenta circa 700 mila aziende in tutta Italia. Al governo abbiamo chiesto di lavorare, uno piccolino come me ha dai 2000 euro effettuati presi, sono sei mesi, sette mesi che non riesco a lavorare, a casa a Natale non so cosa dire ai miei figli, questa è la sincera verità. Ci sentiamo abbandonati anche per quanto riguarda e soprattutto per quanto riguarda i ristori, perché alcuni codici Ateco non sono rientrati in questi benefici e questo comporta una serie di difficoltà per tutte le aziende che vivono di questo.